Sono Gianluca Ronchi, sono titolare di un centro di allenamento funzionale TFT e faccio preparatore atletico di atleti di alto livello, di tutte le categorie. Mi sono approcciato all'S Drive tramite la mia nutrizionista, l'ultoressa Marta Ciani, dove abbiamo cominciato a lavorare su degli atleti per avere dei riscontri abbastanza importanti, dove facciamo dei test che ci danno per verificare dei lavori da fare con questi atleti. Se magari noi abbiamo avuto un atleta dove per un motivo che non si riusciva a capire, questo atleta non correva più, aveva perso la sua potenzialità. Quindi l'unico modo è che abbiamo provato tutte le strade e non trovavamo un rimedio. Il modo migliore è stato con S Drive, abbiamo fatto il test del burro del capello e abbiamo rispondato che aveva un problema a un virus, aveva un virus intestinale. Dall'avvio abbiamo fatto una colla di contrasto immediata e siamo riusciti a farlo ripartire. E quindi l'atleta è tornato a fare il suo lavoro, il calciatore di alto livello, siamo riusciti a farlo ripartire a breve tempo, grazie proprio all'S Drive. Quindi penso che sia uno strumento importante di diagnosi per avere dei riscontri e poi per andare a vedere in fondo cosa fare con questi atleti o con tutte le persone. Sempre per qualsiasi informazione cellwebbing.it